Il gruppo della Guardia di Finanza di Torrenunziata ha sequestrato nel comune di Lettere, nell'area dei Monti Lattari, due piantagioni di mariguana ben mimetizzata dietro una fitta vegetazione. La scoperta è stata effettuata dai finanzieri della Compagnia di Castellamare di Stabia, in collaborazione con i colleghi della sezione aerea di Napoli. Le 102 piante rinvenute di altezza variabile tra i 180 e i 240 cm erano ben protette da un sistema di recinzioni costruite ad hoc mediante rovi di spine e palizzate di legno tese ad impedire l'accesso fisico nell'area interessata. Al termine le fiamme gialle stabiesi hanno sequestrato gli arbusti di mariguana che sono stati distrutti direttamente sul terreno, dove erano coltivate in base alle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Sono tuttora in corso le indagini per individuare i responsabili.